Fumata bianca a Chieti, il capoluogo teatino ha un nuovo governo, presentati gli assessori del sindaco Ferrara, questa mattina lo scalo. Una squadra soprattutto estremamente volonterosa e entusiasta di iniziare subito a lavorare. L'entusiasmo e anche la gioventù di alcuni elementi della Giunta fanno sinceramente ben sperare in un lavoro fattivo, ma soprattutto io ho necessità, e lo faccio per deformazione anche professionale, che le cose comincino a quadrare da subito. Martedì saranno ufficializzate le deleghe e già giovedì prossimo dovrebbe riunirsi al Teatro Marrucino il primo consiglio comunale. Stefano Rispoli e Chiara Zappalorto del Partito Democratico saranno rispettivamente assessore ai lavori pubblici e assessore all'ambiente e alla cooperazione internazionale. La lista Chieti per Chieti sarà rappresentata in giunta da Anna Teresa Giammarino, che si occuperà di istruzione pubblica. La sinistra con Diego ha avanzato il nome di Mara Maretti, docente di sociologia alla D'Annunzio, come assessore esterno. In giunta anche a Enrico Raimondi, che si occuperà di affari legali e personale. E mentre Ferrara dovrebbe tenere per sé alcune deleghe, come quella all'urbanistica, spazio anche ai 5 Stelle, Giancarlo Cascini sarà assessore alla sanità. Paolo De Cesare invece sarà vice sindaco, ma anche assessore alla cultura, alle attività produttive e al turismo. Mentre Manuel Pantalone avrà la delega al commercio. Io sarò vice sindaco, con anche funzioni di assessore, avrò diverse deleghe. Sono contento per il lavoro che abbiamo svolto, ma la vera sfida inizia oggi nell'andare a amministrare questa città, che ha bisogno di urgenti risposte a favore dei cittadini. De Cesare ha poi convinto la commercialista Tiziana Della Penna ad accettare la carica di assessore esterno, con delega al bilancio. Non entro nel tecnico e nel merito, perché devo ancora conoscere tutto. È stato un incarico veramente all'improvviso, non mi aspettavo e quindi non conosco assolutamente ancora nulla. Quella al bilancio è una delle deleghe più delicate a Chieti, soprattutto per quanto riguarda il prestito, di 14 milioni e mezzo di euro chiesto a Cassa Depositi e Prestiti come ultimo atto dell'era di primio. Dalla verifica delle finanze è emerso che c'è un ammanco di 6 milioni di euro. Alla verifica di Cassa abbiamo già questo vulnus iniziale, al quale spero non si aggiungano altre criticità. Certamente non iniziamo in un clima, almeno per quanto riguarda il fatto economico, non iniziamo in un clima allegro. E Luigi Fevo, il più votato del centrosinistra, sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale.